Ecco cosa si deve aspettare il pubblico di canale cinque dai prossimi episodi della soap opera americana, Brooke e Ridge cercano di tornare insieme. Ma Shauna e Queen non se ne stanno con le mani in mano, Sally lascia Los Angeles e Steffi vive una situazione difficile. Cosa accade a Los Angeles nelle puntate italiane di Beautiful in onda ad agosto 2021, continuano a stare al centro della scena Brooke. Ridge e Shauna, ovviamente, non mancano le intromissioni di Queen, ma anche Steffi si ritrova a essere protagonista della trama dell'ultimo mese estivo. La giovane Forrester fa preoccupare parecchio i suoi cari. In corso delle prossime puntate, il pubblico di Canale 5 assisterà all'uscita di scena di Sally. Un ospedale, dove viene ricoverata dopo lo svenimento, implora il perdono di Wyatt. Quest'ultimo non vuole vederla rinchiusa dietro le sbarre e così le consiglia semplicemente di cercare se stesse e di stare lontana da lui e Florence. Dopo aver scoperto tutto, anche Katie decide di affrontare Sally. Brooke e Ridge decidono di lasciarsi tutto alle spalle e di concentrarsi sul futuro insieme. Intanto, Shauna fa ritorno a Los Angeles e svela al Forrester che a Las Vegas. Durante la loro notte da ubriachi, si sono sposati. Scopre così di aver divorziato da Brooke. Chiedendo i documenti a Carter attraverso dei messaggi. Ridge crede che questa situazione si possa risolvere, ma la Logan ha il cuore spezzato. C'è comunque qualcosa che non va. Infatti, Shauna e Quinn promettono di mantenere il segreto. Di cosa si tratta? A Las Vegas, è stata la Fulten a inviare un messaggio a Carter per avere i documenti di divorzio. Ridge convince Brooke che lei è l'unica donna con cui vorrebbe essere sposato e le mostra i documenti che ha fatto redigere da Carter per Shauna. A questo punto, la Logan perdona lo stilista e si scusa per aver baciato Bill. Non solo, gli assicura che non prova più sentimenti nei confronti dello Spencer. Eric fa sapere a Quinn e Shauna che Ridge sta appunto tentando di tornare insieme a Brooke. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che la Fuller non se ne sta con le mani in mano e consiglia a Bill di agire prima che sia troppo tardi. Il dottor Finnegan visita Steffi a casa. La giovane Forester riesce a fare il ritorno nella sua abitazione. Ma i dolori sono terribili. La stilista combatte con i forti dolori. Su consiglio di Thomas. Steffi convince Finn a farsi prescrivere nuovamente gli antidolorifici. Bisognerà stare attenti a questa fase della trama. In quanto la giovane Forester diventa dipendente dai farmaci. .